Rebecca Cushman Reviewer Quando mi hanno chiesto di partecipare a TEDx, ho detto, caspita, cosa mai avrò io da raccontare? Perché ho semplicemente realizzato i miei sogni e la fortuna di aver incontrato 27 anni fa mio marito e con lui aver fondato una piccola ONG in Zambia chiamata Pamoza Indiana che in lingua locale vuol dire assieme ai bambini. Da poco ho terminato di leggere un libro di Don Quixote e amico Sancio cambiare il mondo non è follia né utopia ma solo giustizia. Ecco, questa citazione l'ho sempre fatta molto mia, molto nostra perché la nostra scelta di vita di partire per l'Africa e dedicarci agli altri è stato un po' cambiare il mondo, renderlo un po' migliore sono sempre stata un po' ribelle e 27 anni fa ho deciso di partire per l'Africa e mi sono lasciata un po' trascinare dall'impulso e mi sono unita a un gruppo che partiva per lo Zambia in una missione dei padri comboniani e il gruppo lo organizzava Enrico e lì ci siamo conosciuti ci siamo visti la prima volta ma ci siamo capiti subito stessi ideali entrambi sognatori incoscienti giovani e incoscienti come dicono gli inglesi young and foolish adesso siamo un po' più vecchi ma sempre incoscienti old and foolish e quindi una volta che siamo rientrati in Italia dallo Zambia è stato naturale pensare di ripartire assieme sposati perché entrambi volevamo vivere una vita diversa diversa dal si deve fare così perché così deve essere per cui siamo partiti per l'Africa per lo Zambia abbiamo fatto 5 anni di volontariato nella missione dei padri comboniani Giuseppe il nostro primo figlio è nato in Africa mentre i gemelli Filippo e Damiano sono nati in Italia ma cresciuti in Africa anche loro dopo 5 anni ci siamo trasferiti nella città più vicina Cipata perché in missione non c'era una scuola che poteva garantire un'educazione adeguata ai miei ragazzi però ci siamo spostati e eravamo senza lavoro perché sono sempre stati volontari e pensando in modo logico adesso a 51 anni avremmo potuto rientrare in Italia a riprendere le file della nostra vita ma i nostri ideali con gli stessi ideali che ci avevano fatto partire per l'Africa ci hanno detto no, noi non molliamo restiamo never give up è sempre stato il mio moto quindi ci siamo spostati in città e dopo due anni più o meno di un po' di fatiche abbiamo trovato entrambi lavoro per una organizzazione italiana e le cose iniziavano a essere normali anche per noi Giuseppe era in terza elementare i gemelli avevano iniziato la preschool in questa piccola scuola internazionale quando ecco la scuola decide di chiudere per mancanza di bambini perché le famiglie dispatriati avevano deciso di rientrare nei loro paesi e ancora una volta ci siamo trovati di fronte a un bivio a decidere cosa fare e ancora una volta la nostra voglia di portare avanti i nostri sogni ci ha fatto dire no, never give up noi restiamo però ci siamo posti il problema dell'educazione cosa fare perché comunque la scelta di venire in Africa è stata mia di Enrico non dei ragazzi noi volevamo dare garantire a loro l'educazione per permettere a loro di prendere le loro decisioni in libertà e qui sono io mamma infermiera dovevo fare da maestra ai miei ragazzi senza conoscere bene l'inglese tra l'altro e qui sono iniziati gli anni della homeschool e per 13 anni sono diventata maestra e mamma dei miei ragazzi sono stati anni meravigliosi sofferti ma meravigliosi i ragazzi hanno iniziato parlano inglese italiano zambiano si sono confrontati con culture e religioni diverse colori diversi non era più il bianco e il nero ma era il bianco il grigio il nero una girandola di esperienza abbiamo fatto e la forza nostra è stata anche quella di avere una casa aperta è passato il mondo abbiamo avuto un sacco di persone che hanno voluto condividere un pezzettino della nostra strada far vedere che comunque vivere in modo diverso era possibile poi c'è stata anche la malattia mi hanno diagnosticato un piccolo tumore al seno preso in uno stadio molto iniziale ma che comunque la parola tumore fa sempre paura per quanto questo piccolo sia e ci siamo un po' era il Natale del 2014 eravamo in vacanza in Italia quando il chirurgo ci disse signora lei ha un tumore al seno adesso deve pensare a curarsi e non rientrare in Africa ci siamo messi un po' mi ha fatto un po' sorridere questa cosa perché noi pensiamo sempre che il tumore avvenga agli altri ma mai a noi e ancora lì abbiamo detto no no non molliamo non lasciamo lo Zambia e abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi in questa decisione importante e abbiamo chiesto a loro cosa volessero fare senza un attimo di esitazione loro ci dissero mamma tu resti in Italia a curarti che noi ti aspettiamo giù in Zambia e così è stato io e Giuseppe me lo sono ottenuto in Italia com'è ho iniziato tutto il percorso ho spostato la data del biglietto l'ultima data a disposizione era il 6 giugno e sono andata dall'oncologo e gli ho detto guardi dottore io il 6 giugno sono in aereo e rientro a casa così è stata sono stata super fortunata aver incontrato medici e infermieri meravigliosi una famiglia mie sorelle che mi hanno supportato non mi hanno mai abbandonato e anche questo è stato un pezzetto della mia vita importante importante perché ho avuto modo di trascorrere tempo con la mia famiglia ricucire dei rapporti che si erano allentati è importante per i miei ragazzi per Enrico perché anche loro si sono trovati di fronte ad affrontare una situazione difficile a non mollare mai a rialzarsi sempre nei momenti delle difficoltà e intanto gli anni sono passati e la scuola il ciclo scolastico è terminato e siamo arrivati al momento degli esami di maturità perché gli esami di maturità si non hanno fatto loro ma l'ho fatto anch'io perché con loro ho sofferto con loro ho imparato con loro ho studiato e con loro ho gioito dei loro successi e con la conclusione del loro percorso scolastico abbiamo visto anche la fine del progetto per cui Enrico lavorava da tre anni e ci siamo trovati ancora senza lavoro in Africa e ancora di fronte al bivio a decidere cosa fare restiamo o rientriamo in Italia però a questo punto anche i ragazzi hanno detto no perché loro hanno sempre abbracciato la nostra scelta di vita hanno detto no mamma si trova una soluzione andiamo avanti e qui è arrivato l'anno del Sud Sudan in Giuba sono partita con un progetto sanitario Sud Sudan ero incaricata di tre dispensari di una farmacia questo mi ha permesso economicamente di aiutare i miei ragazzi a iniziare l'università e aiutare me Enrico a far uscire definitivamente il nostro sogno dal cassetto di aprire una ONG registrata in Zambia e qui è nata Pamozi indiana Pamozi indiana si occupa di educazione accesso all'acqua e alla salute ma il programma che più mi sta a cuore è il programma di bambini disabili affetti da paralisi cerebrale idrocefalo e spina bifida li aiutiamo accedendo aiutandoli loro ad accedere alle cure mediche e distribuiamo delle carrozzine speciali queste per migliorare la loro qualità di vita ma non solo loro anche quella della famiglia e della famiglia estesa e per rendere il loro mondo un po' migliore la loro vita un po' migliore ecco ci ho impiegato un pochettino a terminare di leggere il libro Don Quixotte mi è sempre piaciuto un sacco la figura di Don Quixotte perché nonostante le batoste nonostante le derisioni non si è mai abbattuto non si è mai scoraggiato ha sempre portato avanti i suoi ideali e la sua voglia di giustizia e Sancio Panza fedele scudiero che non l'ha mai abbandonato e lo ha sempre seguito vedendolo un po' pazzo che lottava contro i mulini a vento pensando lì dei mostri e lo ha sempre seguito e difeso ecco queste due figure devono aiutare noi a far capire ad aiutarci a difendere i nostri ideali anche se sono un po' fuori moda e spero sempre la mia speranza è che la nostra scelta di vita mia di Enrico e la nostra testimonianza abbia comunicato questi messaggi ai nostri figli grazie 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 grazie